Buongiorno e benvenuti con la TG Tegenerica in 81 Lazio, vediamo le ultime notizie che arrivano in redazione partendo da un'ultima ora e da un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri ad Anzio dove tre persone sono rimaste ferite, l'incidente è avvenuto in zona Lito delle Sirene ed è stato uno sconto tra un SUV e una Smart, quindi due auto tra via Partenope e via Aurora a Boreale. Una delle due vetture, secondo le prime ricostruzioni, non ha rispettato lo stop ed ha preso in pieno l'altra che sopraggiungeva. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle auto e rimesso le due vetture in sicurezza e un mezzo delle 118 che ha soccorso due dei tre ragazzi coinvolti e che sicura sono in ospedale. Andiamo a Roma perché c'è stata una tragedia appunto ieri alle porte di Roma, un bambino di 8 anni è morto dopo che è rimasto incastrato nello scarico delle terme di Cretone a Palombara Sabina. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stessa Palombara e di Monterotondo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, il bimbo sarebbe caduto in una delle vasche termali proprio mentre era in corso l'attività di pulizia e di svuotamento. I inutili soccorsi ora indagano i carabinieri. Sempre nella capitale, dopo 40 anni di attività in un quartiere popolare difficile come quello del Tiburtino 3, centinaia di persone salvate dalla tossicodipendenza e indirizzate verso una nuova vita, adesso il lavoro dell'Hollus e la tenda è a rischio perché l'Asle Roma 2 che possiede i locali in cui risiede la stessa comunità terapeutica, rivuole indietro l'immobile e vuole inoltre trasferire al piano di sotto un SER, un servizio per le dipendenze, quindi una doppia batosta per la Hollus. Quasi 7 milioni di euro per riqualificare i piccoli comuni ed evitare che perdano di attrattiva e dunque anche residenti, è questo quanto ha stanziato la raggiunta regionale con 6,8 milioni per la precisione, definendo il rilancio dei centri con meno di 5 mila abitanti una priorità per l'amministrazione Rocca. Nel Lazio sono 254 su 378 i comuni che hanno meno di 5 mila abitanti ed è per tutelare queste comunità che la regione ha lavoro su tali bandi. Interviene anche l'assessore alle politiche per l'ambiente e l'igiene urbana di Latina Franco Addonizio su dei misteriosi striscioni comparsi ieri in alcune zone della città di Latina che riportano messaggi legati all'azienda speciale ABC che si occupa del servizio rifiuti. Con la dinambiente si è banchettato, con ABC no al privato, c'era scritto sugli striscioni, il caso è stato sollevato dal Movimento Latina Bene Comune sottolineando che per i manifesti in questione è stata utilizzata carta riciclata dai vecchi manifesti elettorali dell'ex candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo. Intorno alla vicenda ABC in generale alla gestione dei rifiuti in questi giorni si legge di tutto e di più, dice l'assessore fino a scritte anonime e ben organizzate per la città, non c'è intenzione alcuna di cambiare gli assetti societari dell'azienda che gestisce la raccolta rifiuti, non è in agenda alcun mutamento. Andiamo ad Arpino in Ciociaria perché il gonfalone della stessa città, giunto alla 52esima edizione, vedrà un protagonista d'eccezione come Vittorio Sgarbi. Infatti il neosindaco della città di Cicerone e la sua giunta comunale nella giornata di domenica 20 agosto sfileranno con un tradizionale abito ciociaro ed è stato lo stesso Sgarbi a pubblicare l'anteprima del suo vestito attraverso le storie Instagram. L'onorevole indosserà il costume ciociaro del brigante di Cesaris, un abito tipico che nell'arte europea del 1800 è tra i soggetti più illustrati dei vari artisti. La manifestazione esiderà per tutto il weekend dal 18 al 20 agosto. Con questa notizia guidiamo il telegiornale di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamente ai prossimi notiziari.